No! Sì! Quel bambino, o qualunque cosa fosse l'ha uccisa. Non posso stare con te. Non starò mai con te. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi andare via. Che cosa? No! No, non farlo! Vai via, te! Sei tutto quello che voglio! Sei tutto quello che ho! Vai via! No! Vai via! Vai via!